Dopo l'ennesima aggressione, la quarta in appena un mese all'interno del carcere Casetti di Rimini, è stata sciolta la riserva sul direttore, Sarageluca Candiano, avvocato di 55 anni, con una lunga esperienza dell'amministrazione penitenziaria a guidare la struttura riminese, anche se non a tempo pieno, infatti Candiano si dividerà con l'ufficio all'interno della casa circondariale di Castelfranco Emilia. La violenta aggressione all'interno dei Casetti si è verificata ieri pomeriggio alle 14.30, quando alcuni detenuti hanno sorpreso un tunisino che stava rubando nelle altre celle. Da giorni erano stati segnalati furti di sigarette e scarpe all'interno delle celle che di giorno restano aperte. Per fargliela pagare lo hanno aggredito con l'asta di una tenda della doccia. La rissa è stata sedata dagli agenti carcerari, mentre il tunisino ferito è stato trasportato all'ospedale infermi di Rimini. Giorni fa, nell'ambito di un altro fatto violento ai danni di alcuni agenti penitenziari, era intervenuto Giovanni Battista Durante del Sappe, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, che aveva sottolineato l'importanza di provvedere al più presto alla sicurezza della struttura con più agenti ed una figura dirigenziale in pianta stabile. Grazie.